Siamo più che soddisfatti. È una edizione che è partita dopo diversi tentennamenti a causa di questa situazione sanitaria che tutti conosciamo. Abbiamo navigato a vista per un bel po', poi finalmente il primo settembre la dicesettesima edizione si è aperta con uno spettacolo importante, una piattaforma coreografica che ha visto in scena in questo teatro, il Teatro Maddalena a Pesaro. Ha visto in scena giovani coreografi provenienti da diverse parti d'Europa insieme a dei pesaresi. Questa settimana avevamo in programma un focus sulla danza israeliana con diversi artisti provenienti da Israele e purtroppo questo è saltato. È saltato per ovvi motivi dovuti proprio alla pandemia. Però al posto ospiteremo una rassegna video. Abbiamo aperto una call internazionale, ci sono pervenute tantissime candidature. Adesso stiamo scremando e arriveremo a proporre il 18 e 19 eventi, questa rassegna video, dove assegneremo anche un premio, il premio interfaccia digitale, assegnando 1.500 euro all'opera di videodanza che otterrà da parte di una giuria popolare maggiori preferenze. Ecco, questo premio permetterà all'autore di tornare il prossimo anno a produrre una nuova opera proprio qui a Pesaro. Dopodiché, il 24 e il 25, tornerà Michal Mualem con il suo progetto CoLab, che è una piattaforma coreografica dove ospiteremo ben 16 danzatori provenienti da diverse parti del mondo. Saranno tutti a soli, principalmente, oppure anche quando in scena ci sarà l'ensemble, comunque sempre nel rispetto del distanziamento. E questo ci porterà alla fine, alla conclusione del festival, il 2, 3 e 4 ottobre, dove dopo una residenza presenteremo la terza opera in coproduzione di Marta Bevilacqua. Quest'anno il suo lavoro si intitolerà Homing e credo che da parte degli spettatori che la seguono ormai da diversi anni qui a Pesaro c'è una grande aspettativa. Questo segnerà la conclusione del triennio di collaborazione coproduttiva con la compagnia Aerea, per poi dare vita a un nuovo ciclo dall'anno prossimo produttivo con altri coreografi italiani.